Ciao amici sono Lox, bentornati sui fatti e opinioni di Lox, il canale per i veri manati di sport. Siamo ancora su Lox e su ghiaccio, questo nuovo angolo che abbiamo lanciato da tre settimane quando ho riscoperto questo sport meraviglioso che adoravo da giovane e ho deciso di occuparmene anche del nostro canale. Prima abbiamo parlato del debutto olimpico con la partita tra la Russia e la Svizzera, adesso invece veniamo al campionato italiano che ha deciso di cambiare la propria formula dovuto alla pandemia, tutta la confusione che si è creata negli ultimi mesi, quindi abbiamo in una settimana il girone all'italiana tra le quattro squadre che si sono classificate ai primi posti nel girone regolare che si contendono il titolo partendo da zero punti. La partita che ho scelto di seguire ieri, la sfida tra l'Asiago, grande favorito per vincere il titolo, e il Cortina. Le altre due squadre del girone sono il Ritten e il Gardena. Il Ritten ha battuto 3-1 il Gardena, l'Asiago ha fatto il suo battendo Cortina per 4-1. Un successo molto netto, molto chiaro, molto franco, un Cortina che era partito piuttosto bene sorprendendo quasi un Asiago invece partito in una maniera un po' tranquilla, un po' serena, i primi dieci minuti nei quali non ha fatto vedere la superiorità comunque netta di una squadra che non solo è molto forte nel campionato italiano ma è anche al comando dell'Alps Hockey League. Invece tutto è andato in malora per il Cortina attorno a quando mancavano 9 minuti e alla fine 10 minuti, anzi eravamo a metà del primo quarto, quando l'Asiago si è trovato una penalità per aver avuto troppi uomini sul ghiaccio. In quel momento, con l'uomo in meno, l'Asiago ha realizzato ben due reti, chiudendo di fatto la partita pronti via. Il Cortina in questo power play non è riuscito a mettere mai in difficoltà la formazione avversaria, viceversa, prima mantenuto e poi mangiabosco, sono stati bravissimi a superare la difesa avversaria con errori clamorosi comunque di un Cortina molle a difendere, un Cortina che mi aveva impressionato invece positivamente all'inizio della partita anche per la determinazione che aveva messo in campo. L'altra parte è un gironcino nel quale tre partite tutti avevano la stessa possibilità di poter andare a vincere il campionato. Invece questo inizio di partita tremendo, Cortina ha chiamato anche il timeout dopo soli 11 minuti di gioco, la partita ha preso direttamente una direzione piuttosto chiara, al punto che in chiusura di primo periodo, con un bel break, Finoro e Vankus hanno costruito anche la terza rete dell'Asiago, che è nata quindi al primo intervallo in vantaggio 3-0. C'è stato anche un piccolo giallo perché poco prima della fine del primo periodo il Cortina ha anche realizzato una rete, un bel gol di Finucci, molto bravo a chiudere su un passaggio di Johansson, la rete del 3-1 però annullata perché qualche secondo prima c'era stato un disco sparato sulle reti invece da parte di De Filippo il portiere del Cortina e quindi il punto è stato poi annullato. Nel secondo periodo Cortina ha cercato in qualche maniera di tenere attaccata una partita che stava comunque scivolando via, invece però il gol anche in questo caso si è anche difesa bene con un 3-5, in maniera piuttosto positiva però l'Asiago ha trovato il punto del 4-0, sempre anche in questo caso quando mancavano 4-42 alla fine del periodo, c'è stato un brutto errore di Zanatta, Magna Bosco ha recuperato il disco, l'ha messo in mezzo davanti alla porta e Jacobelli si è stato molto bravo a trovare il punto del 4-0. L'ultimo periodo è stato molto tranquillo, molto sereno, l'Asiago non ha spinto più di tanto essendo anche in questo momento molto impegnato con tantissime partite di grande livello da giocare e ha trovato un gol invece il Cortina, 9-19, anche in questo caso un gol in inferiorità numerica, un bel break di Zanatta che ha passato il disco a Finucci che è stato bravo a trovare il punto del 4-1, quindi su 5 gol della serata ben 3 sono stati realizzati con l'uomo in meno. Il finale di partita però nonostante il Cortina avesse trovato questo gol per riaprire la gara non ha portato a grandi spostamenti dei valori in campo, l'Asiago ha controllato facilmente l'incontro e ha portato a casa questo successo che la mette lì in testa, Asiago e Ritten hanno 3 punti, Gardena e Cortina ne hanno 0, scambio di avversari nella seconda giornata che si terrà domani sera, giovedì, il Cortina, scusate, Ritten ospiterà in casa il Cortina esattamente, mentre l'Asiago andrà sulla pista del Gardena. È tutto apparecchiato per il grande incontro di sabato sera quando sulla pista dell'Asiago l'Asiago affronterà il Ritten in quella che probabilmente sarà una sorta di finale scudetto in gara unica che assegnerà quindi il trofeo di campione d'Italia. È stata una partita piacevole e scivolata via piuttosto rapidamente, anche arbitrata piuttosto bene da Benvenu e Stefanelli, anche se probabilmente un paio di penalità nel finale ci sarebbero potute stare in più, ma devo dire che anche dopo quello che ho visto oggi in Russia-Svizzera mi è sembrato un buonissimo arbitraggio. Mi è piaciuto anche il commento di Edoardo Mantovani e Michele Strazzabosco che hanno ben colorato e ben raccontato la sfida. Grazie ragazzi, con l'Hockey torneremo a parlarne in settimana, sia con il campionato italiano che va appunto verso il titolo che verrà segnato sabato, sia con le Olimpiadi che sono appena partite. Grazie a tutti ragazzi, iscrivetevi al canale, aspetto i vostri commenti, le vostre impressioni su questa prima partita, like per il video e l'appuntamento è quindi ai prossimi giorni con il grande hockey. Grazie a tutti, un bacio e ciao a tutti da LOX.